Non vedo mai vedere per 10 minuti 5.000 persone che sono rimaste a Palazzetto dove erano gioiti, dopo la vittoria, in attesa al risultato finale delle altre gare. Senta, però lei ha fatto un investimento, lei ha comprato giocatori, ha allestito la squadra, probabilmente si aspettava un risultato diverso, cos'è che non ha funzionato? Beh, se lei mi sta chiedendo se questa squadra era da penultimo posto, devo dire, no, non era da penultimo posto. Adesso lei mi dirà che sono stati degli infortuni, che ci sono stati un sacco di problemi. È una storia che abbiamo già raccontato, ma non è un alibi, in effetti quest'anno abbiamo iniziato la stagione con un grave infortunio al nostro miglior giocatore, DJ White, una frattura a metà capo alla mano, quindi due mesi fuori all'inizio del campionato e ci ha condizionato. E dici, questo ha condizionato a tal punto per far arrivare... Sicuro, poi anche la polmonite virale bilaterale in Mancinelli, l'intervento a Rosselli... Insomma, tante con cause. Tantissime, poi anche la tragica aggressione, l'epifania, dai sono fuori per un mese e mezzo, quasi. Insomma, adesso avete fatto questo expo, insomma, finale, però insomma, per la prossima stagione cosa prevede? Ci dica qualche acquisto o no? Acquisto un po' prematuro. Diciamo che abbiamo centrato il nostro obiettivo, perché l'obiettivo quest'anno ovviamente è la premenenza in A, magari meno sofferta, però l'importante è essere riusciti a riuscire a riuscire al nostro obiettivo. Dica tre nomi, guardi, buttiamo tre nomi. Io penso prima di parlare dei confini, parliamo di un programma, noi vorremmo lanciare entro a fine mese un programma importante, anche per aprire la società a Torino, ma non soltanto al mondo imperditoriale, non soltanto di sponsor, ma alla città intera di Torino. Perché vorrei che Torino sentisse questo patrimonio della collettività. La parola di Cristo di Serie A deve essere sentita come un patrimonio della città. Quindi stiamo studiando insieme con gli amici del CUS delle iniziative e indiremo una conferenza stampa per questo. Quindi il primo passo è un passo societario, poi verrà il passo sportivo. Per chiudere una battuta, confermate l'allenatore Francesco Vitucci? Ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Però quando si dice così sembra che sia, no? No, non è vero, perché non potete assumirmi. Io personalmente posso dirle, sicuramente voglio confermarlo. Però voglio dire, sarebbe più onesto dire, fermiamoci due o tre giorni, anche perché dobbiamo fare alcune verifiche della società, ne parliamo. Sicuramente Franco Vitucci ha fatto un ottimo lavoro e il mio giudizio è da confermare, perché ha raccolto una squadra in un momento di grave difficoltà e l'ha condotta la salvezza, nonostante le avversità. Quindi io personalmente ritengo che meriti una conferma. Grazie moltissimo per essere stato con noi. Grazie anche, scusi per le domande, forse un po' impertinenti. Spero di no. Allora.